Buongiorno a tutti amici ed amiche, salve a tutti in questa calda giornata ormai di questa estate che si preannuncia sempre più caliente da questo punto di vista, stamattina facciamo un brevissimo video di aggiornamento sul caso di Nada Cella, sul caso di Nada Cella se voi ricordate benissimo questa ragazza che nel lontano 6 maggio del 1996 perse la vita insomma nello studio del commercialista Marco Masco Soracco a Chiavari barbaramente uccisa, uccisa barbaramente con un oggetto contundente che non si è mai capito quale fosse ma colpita innanzitutto alle spalle, quindi un vero e proprio attentato avvenuto in quell'ufficio verso le 9 di mattina e quindi qualcuno che si era introdotto in quell'ufficio con evidentemente delle doppie chiavi e che quindi attendeva la ragazza che era entrata poco prima, aveva acceso il computer, si era seduta ed è stata e fu assalita alle spalle. una scena che poi è stata ricostruita bene o male nelle dinamiche e comunque diciamo tutti i sospettati man mano sono usciti fuori da questa storia tranne una, una ragazza all'epoca che poi è diventata maestra che adesso sta in provincia di Cuneo, Anna Lucia Cecere che praticamente già all'epoca era fortemente indiziata perché si diceva che a parte che qualcuno forse l'aveva vista uscire forse con la mano insanguinata ma non si è mai mai trovata effettivamente la prova, mai la prova, poi sono arrivate anche delle telefonate anonime come sapete in cui si accusava questa persona, gli elementi indiziati ce ne erano tanti ma ovviamente all'epoca anche i rilievi della scientifica non erano così analitici, così sviluppati come oggi per cui si fece tutto un guazzabuglio chiamiamolo così perché anche la scena del crimine fu inquinata da gente che andava e veniva, perfino la mamma del commercialista damasco soracco che lavò attesa, meno male che non lavò proprio la stanza dell'omicidio ma comunque anche la stanza, l'anticamera e le scale, insomma cose che sapete benissimo che l'ABC proprio di questi eventi criminali è non toccare la scena del crimine che deve essere sigillata per tutte le analisi del caso e tutti gli accettamenti, quindi fu una fatta così incredibile, tanto incredibile che l'ultimo reperto che è stato trovato dalla mamma della povera nata nella casa di famiglia d'Alpepiana alcune settimane fa è stata trovata la borsetta, la borsetta che aveva all'epoca Natacella con dentro ancora il libretto di lavoro e l'orologio. Ora come è capitato che in questa soffitta della casa di famiglia sia stata trovata questa borsetta? Perché? Perché all'epoca ecco qualche persona stessa voglio dire di chi è intervenuto nell'immediatezza ha ritenuto ecco di prendere cosa che non si doveva fare, di prendere questa borsetta con il suo contenuto, di prendere l'orologio, di metterlo dentro e di consegnarla alla famiglia, evidentemente di consegnarla alla mamma che in quel momento all'epoca di grande costernazione, di grande dolore, di scombussolamento fisico e psichico l'aveva presa e poi aveva dimenticato dove l'aveva portata e l'aveva portata in questa casa di famiglia ad Alpepiana dove ecco diciamo casualmente andando a mettere in ordine è uscito furio. Ora che cosa è successo? Che questi altri elementi sono stati dati al genetista Giardina che sta ultimando, ha ultimato, sta ultimando le analisi e le comparazioni del DNA, cioè tutti gli oggetti, i capelli, il bottone, il famoso bottone che fu ritrovato a casa di Anna Lucia Cecere, lo stesso bottone che stava insanguinato, insomma tutti gli elementi, tutti i repeti che erano stati bene o male, meno male, meno male che erano state ancora conservate grazie a quella criminologa, quella ragazza delfino pesce che è riuscita insomma a dimuovere questa coltre di dimenticanza che c'era stata, insomma tutti questi elementi sono stati analizzati e da questa analisi poi si fa la comparazione punto per punto quindi oggetto per oggetto, capello per capello e anche sulla borsetta quindi anche anche sul sull'orologio anche sul libretto di lavoro e anche anche su addirittura su quel famoso motorino di tanti anni fa. Ora provo che provo che adesso l'ultima dichiarazione vediamo forse per metà luglio ciò che significa questo? Per me ha un significato importante, questo è quasi uno scoop, è quasi una rivelazione perché? Perché questo prendere ancora un po' di tempo è come se si stesse affinando una sentenza, qualcosa è stato trovato, qualcosa sicuramente è stato trovato, qualche corrispondenza significativa è stata trovata, è proprio per questo che chi si occupa dell'indagine sta compulsando il genetista perché in base a queste risultanze cambia, cambia molto la scena e cambia molto anche la vita della della principale sospettata di Anna Lucia Cecere perché è fuori dubbio che se è confermata la presenza del dna su quei reperti e lei automaticamente viene a essere incolpata perché ha sempre negato di aver avuto contatti, di essere stata lì assolutamente e quindi se il suo dna sta in quegli oggetti insanguinati, in quei reperti della scena del crimine uno più uno fa due ed è lei la colpevole ovviamente ci sta il processo e quindi chi deve emettere dei provvedimenti ci tiene a non fare brutta figura quindi qualcosa si sta affinando, qualcosa si sta completando, le carte insomma si stanno un po' mescolando si cerca di non far capire, figuratevi che a qualcuno mi ha domandato ma come mai ancora non si sa niente il genetista giardino ha detto no vabbè poi ho avuto e hanno avuto il covid alcuni miei collaboratori insomma mi sta tanto di una scusa per non far capire che siamo alla vigilia a mio avviso di una svolta una svolta che almeno noi ci auguriamo perché questa è l'ultima occasione perché se c'è questo dna è la svolta se questo dna non c'è oppure non si riesce a compararlo con altri perché voglio dire quello di analogia Cecere e sarebbe risolutivo se c'è un qualche altro dna magari di persone che rientrano nelle conoscenze dell'epoca pure potrebbe essere una svolta pure se fosse ad esempio di masco soracco qualcosa può succedere qualcosa certamente è uscito fuori noi siamo in attesa in attesa in vigile attesa come si dice e credo che per metà luglio secondo me ci sarà questo temporale questo temporale estivo che io da una parte mi auguro per dare pace anche alla sofferenza di questa mamma la signora smaniotto questa mamma di nata cella che da quel lontano 6 maggio 1996 non crede che la notte dormi così bene al pensiero di questa figlia massacrata che si affacciava alla vita e che non ha avuto nemmeno giustizia e lei l'ha detta l'ha dichiarata tante volte io posso morire in pace solo quando saprò la verità noi siamo tutti quanti in attesa grazie amici miei alla prossima un abbraccio a tutti quanti voi grazie precon outra grazie amici Grazie.